Turista abbandona rifiuti incombranti a Crotone, sanzionato. Un uomo in vacanza nel Crotonese è stato individuato e sanzionato dalla polizia locale di Crotone per abbandono di rifiuti incombranti sulla pubblica via. L'uomo che risiede a Torino ed è in vacanza a Strongoli da parenti, per non essere individuato aveva noleggiato un furgone nel Cosentino, ma non aveva fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza che il comune ha puntato in Via Adanegri, zona dove molti abbandonano rifiuti incombranti, che invece possono essere smaltiti gratuitamente nell'isola ecologica che dista qualche centinaio di metri. L'uomo aiutato da un'altra persona era arrivato a Crotone alle 5 del mattino e aveva scaricato dal furgone noleggiato a Mirtucrosia un frigorifero e una lavatrice, lasciandoli in strada. Gli uomini del nucleo operativo ambientale hanno individuato l'uomo che è stato sanzionato ed obbligato, come prevede la norma, alla rimozione di quanto abbandonato. Più in generale nel periodo di Ferragosto sono stati accertati dalla Polizia Locale 21 infrazioni ed elevate le relative contravvenzioni, per mancato rispetto della modalità di conferimento dei rifiuti, con sanzioni fino a 600 euro e l'obbligo del ripristino dello Stato dei luoghi. 5 dei contravvezionati sono risultati provenienti da fuori Crotone.